Il cardinale Gualtiero Bassetti ha informato il clero diocesano che il Santo Padre ha prorogato il suo mandato alla guida dell'archidiocesi di Perugia, città della Pieve, con la formula affinché il Papa non dispone diversamente, dopo la rinuncia da lui presentata per raggiunti limiti di età al compimento dei 75 anni il 7 aprile. Il vescovo ausiliare Monsignor Paolo Giulietti esprime a Papa Francesco, a nome di tutta la chiesa diocesana, immensa gratitudine per aver lasciato alla vita della nostra comunità un pastore buono, saggio e premuroso come il cardinale Gualtiero Bassetti, sottolineando che si tratta anche di un gesto di riguardo del Santo Padre verso la città di Perugia che avrà ancora un cardinale come arcivescovo. Nell'esprimere a Papa Francesco i suoi sentimenti il cardinale Bassetti scrive Un fremito profondo mi assale, da una parte la gioia del contadino vengo dalla campagna che al calar del sole lascia sul campo la sua vanga, dall'altra rimpianto per non aver saputo valorizzare al meglio quei pochi o tanti talenti che gratuitamente ho ricevuto dalla provvidenza.